buonasera ragazzi buonasera a tutti quanti benvenuti nel mio nuovo video che questa sera sarà un video molto particolare sì ragazzi perché questa sera ho deciso di fare un mukbang insieme a voi non sapete cosa significa ma ve lo spiego io che ci sto a fare qua ragazzi scusatemi allora il mukbang non so se è il termine giusto diciamo però voglio dire vi spiego che cos'è allora io devo andare a comprare qualcosa da mangiare ok poi torno a casa e registro un video mentre mangio e parlo con voi e voi cosa dovete fare ma vi ti guarda mentre che mangio in sostanza cosa questo significa molti youtuber lo fanno ragazzi e loro ho detto ma perché non lo posso fare anch'io sì ho deciso ragazzi questa sera facciamo il mio primo mukbang eccomi ragazzi iniziamo il mio primo video di mukbang con mcdonald raga vi devo già dire una cosa sono otto mesi che non ma che non provo un prodotto del genere solo mio mio dio quanto è buono allora ma vi faccio vedere quello che ho preso ok vi faccio vedere devo sistemarmi un poco però perfetto ok ovviamente la coca quale che stessa cosa va bene lo scontrino che non ci serve un che bello mi hanno regalato ricevi un ingresso omaggio all'acqua park si ci devo andare questo lo conserviamo poi ho preso i tavolioli ho preso il i mac no questi sono i macchi no questi sono i macchi i polletti i polletti i polletti come sono caldi poi le patatine le patatine patatine la coca cola le salse allora ho preso ketchup maionese e barbecue wow maravigliosa maravigliosa ed l'invine ragazzi la ciliegina sulla torta guardate guardate qua non guardate niente perché c'è tutto nascosto il mac chicken c'è guardate raga no no raga è meraviglioso mmm com'è buono ok però mi manca la cannuccia eccola 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 ok perfetto allora non so da dove cominciare io comincerei con una patatina mamma da quanto tempo che non li mangiavo da tantissimo buono allora abbiamo le salse anche se non li mangerò tutte vabbè comunque voglio provare mmm uno due buonissimo però eh questi sono buoni questi insomma un po' meno proviamolo con una patatina buono molto buono è un po' piccante ma è buono mmm sono caldissimi sono andato a prenderli non è vicino casa mia il mcdonald oh sono mantenuti mmm specialità raga proviamo uno di qua ovviamente io tutto questo lo sto facendo stasera perché mia figlia non è qui a casa altrimenti non potrei farlo quindi con la scusa che mia figlia non c'è io mangio il mcdonald mmm guarda non potete capire meraviglioso mmm questo è stato sempre il panino mio preferito il mio preferito in assoluto comunque no bene avevo chiesto alla signorina di darmi la coca cola senza ghiaccio secondo voi come me l'ha data? col ghiaccio mi rendete conto con cosa ricavete? ok vabbè pazienza mi so buono mmm brava altro che non mi rimangio madosso e patatine oh ecco mmm buonissimo davvero buono le patatine non tanto mi piacciono però ma no sono calde eh ma non mi piacciono mmm insomma io non sono abituata mentre mentre mangio a parlare mmm che spettacolo adesso arriva mio amato panino stai perdendo tutta la insalata però è tutta qua fuori inviamo una dentro voglio fare una spifezza voglio mettere un po' di salsa barbecue nel panino basta mamma che sto facendo raga un macello un macello sto facendo vediamo dicono che ovviamente il mcdonald raga non è che si può mangiare tutti i giorni io da otto mesi che non lo mangiavo eh quindi che suonino le trombe facciamo finta che sentimo tutti 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 bene mmm 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 no 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 non la faccio a parlare non potete cioè capire le persone che non mangiano mcdonald mcdonald non lo possono capire lo faccio così ecco perfetto e stavo dicendo mmm guardate che faccia mia figlia mi ucciderebbe se scoprisse una cosa simile perché io non glielo faccio mangiare perché dovremmo essere a dieta ma io stasera non lo sono mmm buone però buonissime ma che caldo che fa ragazzi non vedo l'ora che sabato e domenica mi riposo vado a passare due giorni al mare non vedo l'ora ora sto barbecue è buono però molto buono mmm comunque volevo dire una cosa io sono dell'idea che uno quando mangia non può parlare infatti io sto trovando difficoltà mi auguro che non sia non sono sporca no oh no ovviamente quando fanno queste cose parlano di cose così di insomma di non so che dire io solitamente gusto sia col pensiero con la parola con tutto ciò che mangio così però non ci vendo gusto non mi piace però lo volevo provare quindi vabbò pazienza nella vita si deve provare tutto ovviamente nei limiti della legge quindi come me si buzi i patatini però non mi piacciono mi dispiace l'ho presi buone mmm no è un incanto veramente un incanto no raga guardate quant'olio c'è dentro no vabbè scusate ma se se pensiamo a questa non mangeremo niente ma come si fa ogni tanto io sono del parere che si devono mangiare queste cose ogni tanto no ma raga io sono già arrivata buono 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 un po' di insalata spettacolare e quindi ragazzi visto che io stasera mangio da sola ovviamente non è giusto che io mangio sola e quindi ho fatto questo diciamo questo video semplicemente uno per la curiosità di farlo per vedere che cosa ne esce due perché sono sola e quindi cioè sono da sola in casa e quindi giustamente ho pensato perché mangiare da sola con la scusa faccio questo video così è come se mangiassi con loro non è male come idea no il ketchup non mi piace non lo mangio infatti no non sta mai con la scusa poi sta qua guardate l'ho fatta cadere tutta tanto che è buona che mi è cascata tutta mannaggia buono mi incanto che ora sono è presto ancora davvero buono scusate se ripeto sempre le stesse parole io tutti i giorni mi guardo mangio verdure bollite mangio carne arrostita pollo bollito boba fangolo eh te quando ci vuo ci vuo scusate te questo è un broccolo bollito proprio no ogni tanto ci vuole raga io me lo sono potuto permettere stasera no penso che passerà altri otto mesi comunque è divertente ti aspettiamo tutti i giorni no 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 praticamente presentando questo coupon in biglietteria riceverai un ingresso omaggio questo è l'acqua parca di rossano odissea 2000 me ne hanno dato due bellissimo questo invece che cos'è ah l'opinione per noi la tua opinione è importante eh conserva il tuo scontrino oh mio dio dove l'ho messo lo scontrino ecco allora conserva scannerizza il il codice compila brevemente il questionario scarica e stampa il coupon e presentalo e presentalo per un'offerta speciale dedicata a te vabbò non finiscono mai le sorprese al McDonald's perfetto allora devo conservarlo dai lo conservo e lo faccio l'opinione anche se non so se la mia è valida visto che il McDonald's lo prendo ogni otto mesi non so c'è gente che va tutti i giorni io non riuscirei per quanto siano buoni ma tutti i giorni non è possibile ragazze ma a prescindere dalla salute cioè veramente la bilancia ce la facciamo nemica però no tutti i giorni no mi è sempre esagerata questi sono buonissimi buoni 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 vabbè che dobbiamo fare ma voi vi rendete conto che pur di non mangiare da sola vi rendete conto che cosa vado a combinare Perché io sono Una donna di mille idee Ovviamente Poi sono lenta a mangiare Io sono molto lenta Vabbè Un minuto di silenzio Perché mi devo mangiare il panino Sì No è bellissimo Guardate quando Guardate Mamma Guardate Questo sì che è mangiare Davvero buono Io solitamente prendo sempre sto McChicken Non mi piace l'hamburger del McDonald's Eh raga Ognuno c'è la propria I propri gusti Io il McChicken Mi piace da morire No Poi con l'insalata Poi con la salsa barbecue Che ci ho spiccicato sopra Sto facendo un macello Un macello Ma quanti minuti sono passati 17 minuti Ma sto 17 Ovvio per seguito Mi sono molto scaramantica Ciao meglio ci credo Molto E che dire ragazzi Che è buonissimo Molto Molto buono Grazie a tutti Io lo alzo bandiera Perché non ce la faccio più Veramente Sono arrivato Tutto buono Mi dispiace le patatine Le ho mangiato pochissime Questo è rimasto Queste si buttano Ragazzi Io vi ripeto Ho fatto questo video perché ero curiosa Di provare questo mukbang Non so se Se è positivo o negativo Non lo so Però io mi sono divertita Semplicemente perché Sono contenta Perché non ho mangiato da sola Quindi già questo Mi ha Devo dire la verità Mi avete fatto compagnia Va bene ragazzi Il video Penso che si possa concludere qua Anche perché Ho finito Infatti Scaccio tutto Butto tutto E grazie come sempre Che mi seguite Non vi dimenticate di iscrivervi Sul mio canale E soprattutto di premere La campanellina Vi ricordo che questo canale Il mio canale Pubblica video Tutti i giorni Vi mando un bacione Enorme E ci vediamo al prossimo video Ragazzi Sigla Ciao Vi voglio bene Ciao 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 Ciao